Buongiorno a tutti, sono Carlo Arnaboldi del Partito per i nostri figli, siamo nella giornata del FAI, siamo a Villa Valbianello, ricordiamo a tutti che sia oggi che domani, quindi il giorno 25 e il giorno 26 marzo, sono giornate del FAI e ci sono tantissimi musei aperti, gratuiti, per vedere i certi edifici di questa nostra bella Italia e i certi parchi. Quindi è un'occasione che invitiamo tutti a coglierla, qui siamo a Villa Valbianello, oggi è una bellissima giornata e sarebbe un peccato non andare a visitare una di queste nostre meraviglie del lago di Como. Buongiorno a tutti, buona giornata!